Dopo le varie denunce a Puff Daddy, i procuratori e l'FBI stanno indagando per presunto traffico di minori e altri crimini. Il tutto sembra avere delle similitudini con il caso di Jeffrey Epstein e di R. Kelly, al punto che gli stessi agenti che hanno arrestato R. Kelly sono attivi sul campo nel caso di Puff Daddy. Ma Puff Daddy è sulla scena da molto tempo e ci si chiede quali collegamenti potrebbe aver avuto nello spettacolo, quali segnali potrebbero esserci stati che non abbiamo colto. Tupac, J.Lo, Asher, Justin Bieber e persino Michael Jackson sembrano avere o aver avuto delle relazioni con Diddy. Vediamo un pochino, sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Dunque, nel precedente video abbiamo parlato delle denunce a livello legale di Puff Daddy. In questo video affronteremo alcune testimonianze che sono uscite dopo queste denunce, alcune cose che in realtà giravano da prima di queste denunce, alcune voci e alcune speculazioni, alcune red flag che forse, forse potevano essere colte. Vi ricordo che comunque Diddy è libero, il processo non è ancora cominciato, è ancora sotto indagine, quindi lui fino a prova contraria è innocente. Però comunque giravano delle voci. Ora, prima di cominciare, un primo annuncio, cioè che sono stata attaccata da dei bot su Instagram. I bot sono degli account finti che mi hanno preso parolacce, alcuni hanno iniziato a seguirmi, qualcuno, qualche agenzia, io non penso che qualcuno l'abbia fatto, non ho grossi nemici, io non è che sia qualcuno, quindi secondo me qualche di queste agenzie che vogliono fare dispetti, eccetera, queste aziende che poi te li rivendono, questi bot intendo, mi ha preso di mira così a me come tantissimi altri creator. Mi hanno distrutto le statistiche del profilo di Instagram, quindi se voleste seguirmi su Instagram sarebbe apprezzato, mi fareste un grande favore perché così rimetto un attimo in piedi, faccio capire a Instagram che non mi sono comprata i follower, ecco. Questo è il primo punto. Secondo punto, Pampling, lo sponsor del video di oggi. Pampling ci sostiene da tantissimo tempo, andrò a trovarli anche a Siviglia, tra qualche tempo andrò nella fabbrica di Pampling, sono un po' emozionata. Pampling fa sempre tantissimi sconti, vi lascio sotto in descrizione lo sconto di questa settimana e ricordatevi che con il codice sconto l'ora del tè riceverete un paio di calze o calzini in omaggio sul vostro ordine. Ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Dunque, 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 allora partiamo da qualcosa che abbiamo nominato già nell'altro video di cui ha parlato nella denuncia Jones, cioè la sparatoria avvenuta nel 1999 in cui Jones afferma che in realtà sia stato Diddy a sparare e che Jamal Shine in realtà sia stato condannato ingiustamente per proteggere Diddy. Vediamo che cosa dice. Ho trovato un articolo del New York Post che dice che nel 1999, appunto, intorno alle 2.30 del mattino, tre detective della polizia di New York sono stati chiamati al distretto di Midtown North. C'è stata una sparatoria in questa discoteca, in questo club notturno a Manhattan che ha perito tre persone dentro un locale e sono stati messi in stato di fermo per questa sparatoria. Diddy, che all'epoca era conosciuto più come Puff Daddy, la sua ragazza dell'epoca, niente poco di meno che Jennifer Lopez, la guardia del corpo Anthony Wolf Jones e il rapper Jamal Shine. Sono stati arrestati e tenuti in stato di fermo per diverse ore ma sono stati assolti tutti tranne proprio Jamal Shine che ha detto sono stato io a sparare, mi sono preso la colpa. Jones, come abbiamo visto nel video precedente, nella sua denuncia racconta che in realtà Diddy ha detto a lui, che in realtà Diddy gli ha raccontato, gli ha detto no non è stato in realtà Shine, si è preso la colpa per me perché io gliel'ho ordinato ma in realtà sono stato io a sparare e J-Lo all'epoca aveva la pistola in borsetta quindi siccome lei era una donna non l'hanno controllata, ce l'ho interpretata in questo modo perché lui dice a lei non le hanno detto niente, ha potuto introdurre l'arma tranquillamente, aveva lei la pistola in borsetta e me l'ha passata quando mi serviva. Questo è quello che racconta Jones, ma... ma... Abbiamo la testimonianza di una delle tre vittime dell'epoca perché sono tutti e tre sopravvissuti per fortuna che lei era stata colpita al naso e si chiama Natania Ruben e ha dichiarato recentemente che non è stato Shine a sparare all'epoca ma è stato proprio Diddy. Infatti lei lo ha dichiarato alla trasmissione Elizabeth Vargas Reports dicendo li ho letteralmente guardati tirare fuori le pistole, avevo un punto di vista chiaro, voglio dire per l'amor di Dio mi hanno sparato al naso, li stavo affrontando direttamente, ho visto accadere il tutto e l'ho descritto a tutte le parti coinvolte. Quindi lei racconta che all'epoca lo disse sia alla polizia ma anche in processo durante la sua testimonianza disse io ho visto Diddy sparare. Lei che cosa dice? Che chiaramente all'epoca è stata tanto tempo in ospedale perché non ho capito come ha fatto, cioè gli hanno sparato sul naso forse perché se gli spari da davanti muori quindi forse da questo lato non ho ben capito la dinamica comunque lei era all'ospedale ferita e racconta che essendo madre di due figli l'unica cosa che la preoccupava in quel momento era di sopravvivere e di rimettersi in piedi per i suoi figli. Quando è passato tutto il periodo di convalescenza che si è resa conto che le indagini andavano verso un altro punto cioè continuavano a incolpare Shine che aveva confessato si è resa conto che c'era una situazione, una palese situazione di occultamento cioè volevano sviare dal colpevole che era Diddy. Lì si è messa paura, ha detto ok non dico niente perché questo ha potere, è una persona pericolosa e io non voglio morire. Però poi quando è uscito tutto quindi la polizia ha cominciato le indagini eccetera ha capito che Diddy non era inattaccabile ha deciso di raccontare la sua in televisione e infatti dice anche dice che secondo lei le indagini di quel crimine dovrebbero essere riaperte e di fare delle indagini approfondite nel caso in cui lei muoia o scompaia dopo aver parlato. Lei infatti ci tiene a precisare dice sono una donna sana, ho una vita semplice, tranquilla quindi se dovessi scomparire sappiate che io non ho fatto gesti avventati ma semplicemente qualcuno voleva mettermi a tacere quindi ha messo anche le mani avanti dicendo se io scompaio e qualcuno dice ok questo ha fatto un gesto avventato sappiate che non è così perché io sono contenta della mia vita quindi qualcuno mi fa sparire. Quindi questo è il primo punto che diciamo più che una speculazione sono delle testimonianze date anzi la testimonianza data da una persona che era presente che è stata anche vittima della sparatoria dell'epoca. Questo è il primo punto che è uscito ma, ma ce n'è un altro e cioè parliamo di Tupac Shakur come ho detto nel precedente video abbiamo fatto sia un video su Tupac sia su Biggie e quindi che in sostanza che cosa è successo per ripassare molto molto velocemente in maniera molto schematica Puff Daddy, cioè Diddy capo della casa discografica Bad Boy Records la Bad Boy Records aveva come artista di spicco Notorious B.I.G. e tutti, insomma, la Bad Boy Records con Puffy, Notorious e tutti gli altri erano affiliati alla gang di strada dell'East Coast i Creeps quelli con le bandane blu invece dal lato della West Coast cioè a Los Angeles c'erano Suge Knight o Shug Knight non ho ancora capito come si chiama Shug Knight con la sua casa discografica che in questo momento mi sta sfuggendo il nome che aveva come artista di spicco Tupac e loro erano affiliati alla gang dei Bloods quindi quella della West Coast di Los Angeles questa faida tra gang di strada che quindi andava oltre il panorama musicale rap e hip-hop ha fatto sì che si scatenassero delle vere e proprie guerriglie tra i due lati della East Coast e della West Coast infatti la teoria più gettonata della polizia sulla morte di Tupac e di Notorious B.I.G. che entrambi sono morti a distanza di pochi mesi in una sparatoria quindi affreddati proprio sia in realtà il risultato di questa faida tra queste due gang è stata sempre la teoria più gettonata anche se ad oggi entrambi gli omicidi non sono mai stati risolti ma il nome di Puff Daddy di Sean Combs chiamatelo come mi pare è già uscito diverse volte quando si stava indagando sull'omicidio di Tupac perché alcune persone già all'epoca dicevano guardate che questi li ha mandati di questi che hanno ammazzato Tupac infatti che è successo? nel 1996 a Las Vegas quindi a migliaia di chilometri da New York in cui si trovava Diddy Tupac Shakur fu brutalmente assassinato mentre era nella sua auto insieme a Suge Knight che invece si salvò per miracolo un'auto si affianca al semaforo e inizia a sparare dentro quest'auto c'erano quattro persone di queste quattro persone sono state subito sospettate due persone in particolare una era Orlando Anderson che era un affiliato della gang dei Crips quindi di quelli con le bandane blu perché Tupac era quelli con le bandane rosse così visivamente magari ve lo ricordate comunque era diciamo questo Orlando Anderson era affiliato ai Crips aveva litigato qualche ora prima dentro un casino proprio con Tupac avevano fatto a botte quindi è stato sospettato ed è stato sospettato insieme ad Orlando Anderson immediatamente anche suo zio Kifidi suo zio Dwayne Kifidi Davis e loro due sono stati immediatamente considerati i principali sospettati quindi due su quattro di quelli che erano presenti nella macchina la teoria della polizia è stata che Orlando Anderson ha sparato e Kifidi lo zio si è procurato la pistola per poi che ha poi dato al suo nipote per ammazzare Tupac questa è stata anche la teoria di un detective un ex agente di polizia che poi si è diciamo che è stato congedato se lo si è congedato non mi ricordo se si è licenziato lui che comunque ha continuato nella sua vita di indagare sull'omicidio di Tupac e di Notorious B.I.G. c'è fatto anche un film Johnny Depp in cui ha interpretato questo Greg Kending era la gente e questo Greg Kending era arrivato a questa conclusione cioè lui diceva che che appunto Orlando Anderson è stato colui che ha sparato a Tupac la pistola gli è stata data da suo zio Kifidi che a sua volta ha ricevuto la pistola da Eric Zip Martin un socio proprio di Diddy e questa teoria è stata poi confermata il 2 luglio del 2018 dallo stesso Kifidi perché Kifidi era sul letto di morte malato di cancro ha detto voglio confessare vi dico che si è stato mio nipote Orlando Anderson a sparare a Tupac io gli ho dato la pistola e il mandante però dell'omicidio è stato proprio Diddy che ci ha offerto un milione di dollari per uccidere Tupac quindi in realtà la voce di Diddy usciva già da un po' di tempo però non è mai stato perseguito per l'omicidio di Tupac che cosa succede ad un certo punto che effettivamente come vi dicevo nell'altro video giravano già delle voci sulle feste di Diddy nel senso che si sapeva era certo che Diddy faceva queste mega feste proprio gigantesche dove invitava tantissima gente dove c'era l'eccesso al di fuori di quello di cui poi è stato accusato tra armi, droga traffico di minori eccetera però si sapeva già è già una cosa certa che Diddy facesse queste feste in stile Hollywood niente di nuovo ma si vociferava già che a queste feste succedevano cose che non erano proprio legalissime infatti ho trovato un'intervista di Cat Williams che è un comico che durante il podcast di Club Shy che è il podcast di Shannon Sharp che da come ho capito è un atleta lui questo Cat Williams ha raccontato che ha rifiutato quattro volte cinquanta milioni di dollari fa proprio così io quattro volte ho rifiutato cinquanta milioni di dollari da Diddy per mantenere la mia integrità ho detto Diddy vuole una festa tu devi dirgli di no tu devi dirgli di no gli puoi dire di no a Diddy se non vuoi la tua festa perché facendo riferimento che se Diddy organizzava determinate feste ti invitava ti diceva dai facciamo una festa eccetera eccetera succedevano delle cose un po' particolari e infatti ho trovato anche tutto questo prima della perquisizione dell'FBI ho trovato anche un'intervista del rapper Uncle Luke che ha lasciato delle dichiarazioni in un podcast chiamato Miami Podcast in cui gli è stato chiesto sei andato mai alle feste di Diddy e lui ha risposto no al massimo sono andato via presto e il presentatore quindi ride gli chiede perché te ne sei andato via presto e Luke risponde Uncle Luke risponde me ne vado presto perché non voglio sapere cosa succede dopo l'ora X e non volevo assolutamente scoprirlo quindi lasciando ad intendere ad un certo punto la festa prendeva una piega in particolare ora parliamo proprio di speculazioni parliamo di speculazioni che fanno un po' ora a brividire però ve lo anticipo sono speculazioni cioè sono dicerie sono collegamenti fatti magari anche dai fans anche da alcuni programmi americani in realtà ho visto su YouTube però sono speculazioni che potrebbero essere come non potrebbero essere la prima speculazione di cui voglio parlare è Justin Bieber c'è sempre Justin Bieber in mezzo comunque abbiamo già fatto un video su Justin Bieber raccontando di come lui fosse trattato come un pezzo di carne da insomma da tutta Hollywood e c'è un video di un giovane Justin Bieber più o meno era intorno al 2009 quando lui aveva 15 anni si vede questo video su YouTube caricato proprio sul canale di Justin Bieber chiamato 48 ore con Diddy perché infatti lui ha passato due giorni in casa vivendo con con Diddy c'è questo video appunto in cui Diddy dice andiamo in giro non posso rivelare quello che stiamo facendo ma è sicuramente il sogno di ogni 15enne questo video ha lasciato un po' perplessi anche perché dopo c'è stato un altro video cioè allora al di là delle accuse che sono state fatte a Diddy e come vi ripeto non sono ancora state provate però comunque il fatto che Diddy fosse famoso per le sue feste eccessive quindi fosse comunque un tipo un po' eccessivo cioè questo è chiaro lo dice lui stesso cioè fa sempre girano dei video che lui stesso ha caricato in cui fa finta di spaccare cose è super eccitato è super così un po' è una persona molto eccessiva ecco e lui non lo nasconde quindi un quindicenne che passa 48 ore con insomma un adulto che in più ha un po' queste manie comunque fa strano ecco questo sicuramente al di là delle accuse poi se le accuse dovesse essere confermate già abbiamo capito quindi che cosa succede che appunto poi sono girati altri video poi nel corso degli anni per esempio un video in cui Justin Bieber con Diddy sembra palesemente a disagio infatti Diddy mi dice non mi chiami più non usciamo più insieme Justin Bieber inizia a balbettare non c'è uno scherzo c'è Diddy molto quasi arrabbiato che dice perché non mi chiami più perché non usciamo insieme comunque ci si portano vent'anni di differenza e c'è Justin che inizia a balbettare dice il mio agente che sceglie con chi devo uscire che chiama lui che crea i contatti c'è un video abbastanza strano e ne girano anche altri in cui appunto Justin Bieber quasi non riesce a guardare negli occhi Diddy e quindi molti l'hanno interpretata come un qualcosa di strano infatti hanno fatto molti le persone hanno fatto riferimento alla canzone Yammy di Justin Bieber io personalmente non mi c'ero mai focalizzata su quella canzone girava già da un po' effettivamente perché il video è un po' strano Yammy è il verso di quando mangi e qualcosa ti piace che fai mmm in americano no? come il segno dei bambini così praticamente e che cosa succede che in questo video di Yammy si vede Justin Bieber che cena con questi vecchi facoltosi quindi ad un certo punto verso la fine capisci che in realtà è come se la cena fosse stata lui perché si vede un piatto sul tavolo con la faccia di Justin Bieber quando ha iniziato quando aveva 14 anni con scritto Yammy lasciando un po' di intendere come se in realtà quest'industria l'avesse assaporato ecco diciamo che il significato potrebbe essere questo e questo video ha lasciato sempre molti interrogativi quindi magari Justin Bieber voleva per esempio dirci qualcosa ma come vi dicevo sempre nell'altro video Justin Bieber in realtà è stato scoperto da Asher cioè è stato poi appunto diciamo lanciato da Asher ma Asher stesso ha iniziato a frequentare Puff Daddy Diddy quando aveva 13 anni perché Asher ha partecipato al Puffy Flavor Camp che non ho ben capito se è tipo una sorta di camp rock di Diddy però insomma comunque gli insegnano a cantare lo aiutano lo spingono e poi gli fanno un contratto per appunto farlo diventare un artista lui era il più piccolo aveva solo 13 anni e ha frequentato ha vissuto praticamente un anno con Diddy e lui non ha negato di aver partecipato a determinate feste ho trovato un'intervista in cui lui dice che appunto ha avuto modo di vedere lo stile di vita che facevano le feste che organizzavano come vivevano e letteralmente dice ho avuto l'opportunità di diventare un giovane uomo c'erano anche ragazze più mature quindi insomma al di là delle accuse capisci già che un 13enne dentro quel contesto non è il massimo ricorda un po' la storia di Drew Barrymore ecco insomma un bambino in delle feste e infatti il presentatore poi chiede ad Asher lo faresti fare anche ai tuoi figli questa vita lui risponde diavolo no quindi non ha ben specificato che cosa effettivamente sia successo però ha lasciato intendere che insomma lo hanno fatto diventare uomo molto prima di quello che di quella che è anche solo l'età legale perché aveva 13 anni e che cosa succede ho trovato poi un'altra intervista di Asher che mi ha fatto ricollegare un po' di puntini perché allora anzitutto Asher voleva sì diventare famoso fino a un certo punto indovinate chi c'era dietro la madre la madre era determinata a farlo diventare una star il padre non reperito sparito e quindi praticamente la madre lo ha iscritto a questo campo di Puff Daddy però a un certo punto tutto lo staff del campo quindi lo stesso Diddy diciamo sono andati dalla madre e le hanno detto guarda non va bene che tu sei la manager sei troppo presente lasciaci tuo figlio che questa è una cosa che abbiamo già visto diverse volte capitare quindi insomma hanno cercato di convincere si Asher che la madre dovesse farsi da parte perché era troppo presente nella vita del figlio anche a livello lavorativo perché appunto gli faceva da manager perciò ad un certo punto sono riusciti a far staccare la madre e Diddy è diventato lo stesso manager nella intervista diceva tutore legale però io credo che si riferisse alla parte lavorativa che non credo che fosse tutore legale è sostanzialmente un genitore quindi non credo immagino che intendessi a livello lavorativo era tutto nelle mani di Diddy cioè Asher un tredicenne Asher era nelle mani di Diddy e la red flag ancora più diciamo inquietante è che appunto il padre di Asher non era reperibile nel senso che li aveva abbandonati immediatamente quando Asher era molto piccolo quindi lui dice io non l'ho mai conosciuto avevo questa voglia di avere un padre lui dice l'amore di un padre è insostituibile io tutto quello che ho fatto anche la mia volontà di diventare un artista era semplicemente per attirare l'attenzione perché io avevo bisogno di una figura paterna e indovinate chi è diventata la figura paterna di Asher proprio di Diddy ed è per quello che poi lo portava con sé alle feste eccetera e quindi magari una speculazione potrebbe essere comunque che tra i due si è creato questo rapporto un po' disfunzionale dalle esigenze emotive che aveva Asher dopo essere stato abbandonato però vi ripeto speculazioni che poi ho trovato appunto questa intervista in cui Asher racconta anche una cosa ce la metto perché è molto intensa è molto triste Asher non aveva mai conosciuto suo padre ad un certo punto quando era adulto quando appunto aveva il figlio piccolo che lui stesso poi è diventato padre riceve una chiamata dall'ospedale e l'ospedale gli dice guarda tuo padre il tuo padre biologico è in trapia intensiva ha bisogno di un trapianto di fegato e di un pezzetto del fegato tu sei suo figlio quindi potresti essere compatibile e Asher racconta dice è stato strano perché io potevo scegliere se mio padre doveva vivere o morire cioè in base a quella che era la mia scelta perché lui aveva pochi giorni di vita in base alla mia scelta io potevo scegliere ho messo da parte la rabbia e mi sono sottoposto all'operazione quindi lui ha detto così magari se il padre si risveglia possiamo provare io lo perdono possiamo provare a riavere un rapporto purtroppo però il padre è morto sotto i ferri cioè mentre stavano facendo l'operazione non ce l'ha fatta ed è morto e lui è rimasto sempre con questo interrogativo di come sarebbe stato il rapporto col padre se fosse sopravvissuto è stata molto triste come cosa veramente non me l'aspettavo io quando cerco le cose alla fine mi capitano sempre le cose tristi veramente triste comunque poi altri collegamenti che hanno fatto che secondo me questo è un po' forzato ce lo metto per onor di cronaca ma hanno fatto un collegamento con quiet on set con il documentario di nickelodeon perché praticamente usher nel 2002 partecipa ha fatto una comparsa nello show di nickelodeon all death e questa scena l'hanno vista come se ci fosse come se fosse una di quelle scene inquietanti di cui abbiamo parlato a mio avviso secondo me no però insomma perché a certe volte poi parte anche un po' di fanatismo insomma secondo me ci sono state scene più palesi e più gravi però comunque ve la dico praticamente gli dicono non riusciamo a svegliare il nostro amico ci dai un consiglio Diddy prende un elicottero giocattolo di quelli elettrici che si accende l'elica gli dice mettetegli questo nei pantaloni vedete che si sveglia loro gli mettono questo elicottero nei pantaloni e questo ragazzo si sveglia di botto e inizia ad urlare per il dolore è chiaro che comunque è una scena un po' inquietante però magari era la comicità degli anni 2000 io non ci ho visto niente di particolare però il fatto che Diddy fosse stato preso in uno show per ragazzini ad oggi ha inquietato un po' le persone ecco però vi ripeto nel senso non ancora sappiamo nulla non ancora di Diddy e poi l'ultima cosa che però questa non ho trovato conferma quindi io ve la dico ma non ho trovato conferma cioè vi ricordate Fahim Muhammad che era il tipo che si occupava della sicurezza di parlare con la polizia di coprire tutto quello che faceva di far scomparire le persone secondo Jones ecco questo Fahim Muhammad o Muhammad non ho ben capito come si legge Muhammad è stato ed era anche la guardia del corpo di Michael Jackson e fin qui questo è certo cioè questo Fahim era il capo della sicurezza di Diddy ed era anche la guardia del corpo di Michael Jackson fin qui tranquillo ho trovato anche una foto di Michael Jackson con la bandana blu dei Crips quindi forse Michael Jackson era affiliato alla band dei Crips ve la faccio passare qui l'immagine ma a parte questo ho trovato queste speculazioni online che però non sono riuscita a confermare quindi non so se siano vere del fatto che la notte in cui è morto Michael Jackson che non si è ben capito c'è avuto appunto un'overdose una sovraddose di farmaci infatti è stato arrestato il suo medico è stato condannato a quattro anni di carcere però la morte di Michael Jackson è sempre rimasta un po' così un po' nell'ombra pare che l'unica persona presente quella notte con Michael Jackson fosse proprio Fahim Muhammad io questa notizia non sono riuscita a confermarla va girando online su TikTok su YouTube io non ho trovato conferma se trovate qualche conferma fatemelo sapere ma se dovesse essere veramente così considerando che questo Fahim secondo la denuncia di Jones era un tipo che faceva anche sparire la gente si potrebbe riaprire anche un'altra parentesi su Michael Jackson bene questo è tutto quello che è uscito in questi giorni poi se ci dovessero essere altri aggiornamenti importanti chiaramente li portiamo per ora questo è tutto quindi io vi auguro un buon weekend noi ci vediamo martedì prossimo ciao